Continua senza sosta la preparazione del football club matese allo stadio comunale sotto lo sguardo attento di mister Urbano, fresco del premio Miselli quale personaggio sportivo dell'anno 2021. Comincia lontano dal Ferrante dunque il secondo campionato di Serie D del football club matese con la trasferta di Porto d'Ascoli. Proprio di questa partita delle possibili difficoltà alla vigilia della gara il nostro Emetio Bianchi ha incontrato mister Urbano. La partita col Porto d'Ascoli, una squadra neopromossa che però sicuramente vi farà soffrire la prima giornata. È una partita difficile perché le squadre neopromosse vivranno sicuramente, affronteranno la partita di domenica con grande entusiasmo appunto perché sono neopromossi. Noi pure l'anno scorso avremmo un grandissimo approccio, andiamo a vincere 4-0 a Dagnone. È una squadra che conosco anche diverse individualità, è una squadra che ci sono diversi giocatori che hanno giocato a San Benedetto. È una squadra da affrontare con la giusta attenzione, con la giusta determinazione, con il giusto e dovuto rispetto. Però dobbiamo andare lì cercando di fare quello che sappiamo fare. Io credo che possiamo portare a casa un risultato positivo se affrontiamo appunto questa partita con un approccio degno di quello che deve essere. Ecco, problemi di formazione ne ha? Ma al momento sembrerebbe di no, però insomma valuteremo prima della gara. Dallo stadio Ferrante di Pierimonte Matese, Lorenzo Applauso ed Emidio Bianchi per casertasera.it